Eccoci insieme, allora pronti per la quarta e ultima parte di Calcio Punto Basket, obiettivo puntato sul Sant'Arcangelo e sulla Lega Pro. Dicevamo in chiusura di terza parte che è un Sant'Arcangelo piuttosto arrabbiato perché questo 0-2 per mano della Reggiana al Mazzola, a parte che non ci voleva, ma è arrivato anche con qualche decisione del direttore di gara contestata, soprattutto in riferimento all'espulsione che ha lasciato, oltre al rigore dato alla formazione Reggiana, ha lasciato in E10 il Sant'Arcangelo per buona parte del match per tutto il secondo tempo e la chiusura delle partite. Si è arrabbiato molto anche il tecnico Marcolini che è stato espulso per proteste, di tutto questo parleremo con i nostri ospiti, Luca Oneto, difensore del Sant'Arcangelo, ben trovato. Buonasera. E' tornato a trovarci, è un vero piacere, Loriano Zannoni, buonasera. Roberto, buonasera a tutti. Ancora ben trovato al nostro Cesare Tremisani. Allora direi di partire proprio dall'episodio, da questo calcio di rigore, non abbiamo le immagini ma i tifosi sant'arcangelisi sono visti in presa diretta allo stadio, hanno imprecato a sufficienza immagino. Ci stava il rigore, ci stava il cartellino, secondo te? Secondo me il fallo poteva starci, ma l'espulsione mi sembra esagerata perché comunque Nardi aveva il pallone già tra le mani, però il direttore è già deciso su quel fatto lì e quindi ha scelto per l'espulsione. Ma come ho detto è sempre esagerato, poi anche il mister è stato espulso, secondo noi non ci stava per niente l'espulsione. Ricordiamo, era Serignano su Guidone, Nardi aveva però recuperato il pallone e il mister Marcolini ha commentato nel dopogara decisione affrettata ed eccessiva, proprio perché Nardi aveva già preso il pallone, preso possesso del pallone. Sì, lì sono lamentati molti giocatori in campo anche del rigore stesso, però è difficile giudicarlo, o meglio, è facile giudicare e si vede che c'è una trattenuta, poi l'intensità trattenuta la conoscono solo Sirignano e Guidone. E dunque quantomeno in questi casi si dice ingenuo il difensore a trattenerlo, anche se era in svantaggio e qualcosa comunque doveva fare. C'è stata questa palla filtrante, Guidone in vantaggio e Sirignano e lo stesso ex del Sant'Arcangelo che hanno avuto a che fare con, c'è stato questo contatto. Effettivamente però la palla al momento del fischio e del fallo non era più giocabile ed era quasi di Nardi. Quella è stata la decisione che poi ha dichiarato Marcolini e ha fatto arrabbiare lo stesso natore e ha portato all'espulsione. Per la verità, dalla tribuna sembrava quasi che Marcolini ce l'avesse con Cesarini, perché Cesarini dopo la battuta del rigore ha esultato ed è ovviamente consentito, ma poi si è rivolto alla tribuna e ha fatto, non gestaci, ma ha mandato baci in tribuna. Lui stesso poi ha dichiarato in sala stampa, ha mandato baci alla moglie, ma il reiterare di salutare tutta la tribuna Sant'Arcangelo è stato un po' sospetto. Dal campo, dalla tribuna sembrava che Marcolini avesse così, litigato con Cesarini, poi però ha dichiarato a Nardi Sant'Arcangelo che è stato proprio più il rosso a Selignano che il rigore stesso a farlo arrabbiare. Decisione al limite, probabilmente il rosso non ci stava, ma altrettanto probabilmente ci stava il rigore. Cesare? Come diceva Loriano, tutto sta nell'entità di questo braccio che va sulla spalla di Guidone, che ruota un po' la sua posizione e finisce a terra. Lì la dinamica è anche talmente veloce, è vero che in quel momento la palla se l'era forse un po' allungata e Nardi c'era arrivato sopra, però è anche vero che forse se c'è fallo forse è stato anche rallentato nell'arrivare sulla palla dalla possibile trattenuta. Io credo che per come ha diretto la gara l'arbitro, nell'altra area non avrebbe preso le stesse decisioni, secondo me. Probabilmente non avrebbe espulso il difensore della Reggiana. Lo dico perché la direzione di gara è stata, secondo me, lì ha ragione di protestare Sant'Arcangelo perché la direzione di gara è stata abbastanza, diciamo così, di tutela per me e della Reggiana. Nell'episodio è stato molto, 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 molto severo. Cioè lui ha, se è fallo, Sirignano era dietro Guidone, quindi è davanti al portiere, a tre metri dalla porta. Volendo essere molto severi, poteva fare tutto quello che ha fatto. Dico solo che secondo me nell'altra area non avrebbe fatto la stessa cosa. Luca, vi sentite un po' penalizzati, visto che si è dato il caso che abbiate avuto degli episodi sfavorevoli prima a Parma e poi con la Reggiana, che sono due big di questo campionato. Ma direi di sì, perché comunque sia col Parma che con la Reggiana ci siamo preparati bene per affrontare la partita. Comunque per i tre punti. Anche a Parma siamo andati con questa intenzione, ma vedi là per il fuorigioco, non fuorigioco, il gol loro. Per il rigore non dato sul fallo su Cori e contro la Reggiana appunto il rigore, gli episodi sono stati significativi. E quindi sicuramente il rammarico c'è perché potevamo e sapevamo di poter fare di più. C'è, Loriano, diciamo in questo momento un Sant'Arcangelo che sta pagando il suo nome al cospetto delle grandi squadre? Oppure, insomma, è soltanto una coincidenza secondo te il fatto che abbia giocato prima col Parma e poi con la Reggiana e si sia lamentato in tutte e due le settimane dell'arbitraggio? No, può essere, può darsi ed era questo il tema ricorrente anche sia dello stesso Marcolini che l'ha lasciato trasparire da quello che ha detto ma anche dei sussurri dei dirigenti nel dopo partita più che l'episodio in sé, come diceva giustamente Cesare, il tono dell'intera direzione e la continuità con le decisioni prese a Parma. Nei fatti il Sant'Arcangelo è stato penalizzato, però è altrettanto vero che adesso non può piangersi addosso e tirarla ancora lunga sul commentare di questi episodi. Parlo della squadra, noi chiaramente siamo qui per commentare la cronaca, però ovviamente la squadra, e sono sicuro che non lo farà Marcolini, non può pensarsi perché ne andrebbe dello spirito con il quale affronta una partita complicata come la prossima. Secondo me questo è il passaggio, il primo passaggio complicato della stagione del Sant'Arcangelo perché due sconfitte consecutive dove esci molto arrabbiato. Adesso c'è una brutta partita a Teramo e poi credo che venga il Bassano a Sant'Arcangelo, quindi è un'altra sfida complicata. Sono tra l'altro tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Questo e come diceva giustamente Loriano, adagiarsi sugli alibi dell'arbitraggio sarebbe un gravissimo errore perché comunque nel primo tempo di ieri secondo me Sant'Arcangelo poteva fare di più e meglio di quello che ha fatto perché ha contrastato una squadra molto importante come la Reggiana, ma a me la Reggiana non ha fatto una grande impressione dal punto di vista né del ritmo, né dei giocatori buoni, di qualità, che sanno muoversi, però una squadra a me ha deluso parecchio. Se questa è una squadra che vuole vincere il campionato, comunque arrivare molto in alto, secondo me è lontana nei luci sia dal Venezia che dal Parma, ma anche dal Pordenone, da altre squadre che sono più forti di questa Reggiana. E piuttosto mi concentrerei su quello che di più si poteva fare in quel primo tempo. È chiaro che il rigore alla fine del primo tempo più o meno ha messo la squadra in grossa difficoltà per tutta la ripresa, dove ha giocato bene, con voglia, cercando di stare dentro la partita, però in quel primo tempo secondo me si poteva fare un po' di più contro un avversario di quel tipo, con un po' più di personalità, un po' più di intensità, ha un po' troppo ballato a giocare sull'avversario che non a proporre qualcosa di suo. Secondo me Marcolini e tutta la squadra di Sant'Arcangelo dovrebbero evitare il discorso degli arbitri, proprio dimenticarlo e guardare a come risalire da questa situazione un po'. Non è difficile, però è veramente il primo sermaforo giallo che arriva durante il cammino del campionato, perché la classifica adesso sembra sia in cinque punti dalla zona play-out e quindi comunque non c'è più la tranquillità di prima e ci sono queste partite un po' ignoranti che sono avvenute, quindi speriamo che trovino il bandolo e sappiano riprendersi. La Reggiana tra l'altro è la favorita del mister Marcolini, ci aveva detto quando ero un posto. Sì, venne qui e disse questa cosa, mi piacerebbe chiedere a Marcolini se ieri conferma questo suo giudizio, per me la Reggiana ieri è stata una delusione. Secondo me, adesso sta trovando l'equilibrio, bisogna vedere se Menichini riuscirà a fare quello che secondo me sta cominciando a fare da Versa, a Parma. Non è un attore, periodaccio, e chiaramente era una squadra, ieri secondo me al limite, si prendeva un colpo, difficile mandare a capo la Reggiana a prescindere. Ma se Santa Cancio si fosse riuscito, magari non avrebbe neanche reagito la stessa Reggiana. È una squadra che secondo me sta cercando di ritrovarsi. Era anche Rene che c'è da un solo punto nell'ultime cinque partite, quindi era in crisi nera, da cui cambia anche la panchina. Rene un attore, tante questioni, in mercato, dovrebbe partire qualcuno di importante, arrivare qualcun altro. Non era certamente una squadra in salute, ma era una squadra con dei valori. Stanno sicuramente meglio Parma e Venezia, poi ne parleremo quando guarderemo i risultati. Sì, tra poco vedremo questo big match. Però, obiettivamente, si poteva fare di più sempre con le mille premesse che è una squadra d'alta classifica e con il Santa Arcangelo che invece lotta per la salvezza. Luca, il mister Marcolini ha detto che fino all'espulsione il Santa Arcangelo aveva giocato una partita dignitosa. Diciamo anche, nell'aggettivo non si era sbilanciato tanto, insomma diciamo che gli era piaciuto il giusto, diciamo perché dignitosa non è insomma una grande prestazione, no? Sì, no, sinceramente il primo tempo non è stato dei più belli da vedersi, per dire come spettatore. Però in campo c'è stata comunque battaglia, non si è vista la differenza di nomi della Reggiana nei confronti del Santa Arcangelo. Questo va a merito comunque alla squadra che ha saputo tenere botta alla Reggiana. seppur non creando troppo, ma senza subire niente praticamente. Ti ricordi quando avevate subito gli ultimi gol al Mazzola? Perché era da un po' che non li subivate? Allora. Andiamo, ti faccio questo test. No, te lo ricordo io. 5 novembre contro il Venezia, tra l'altro partita pareggiata 1-1. Quindi era da un bel po' di tempo che la porta di Nardi al Mazzola restava inviolata. È un po' la vostra forza l'organizzazione difensiva? Sì, sicuramente. Soprattutto in casa ci rendiamo conto di essere una squadra molto preparata difensivamente, ma anche fuori casa non siamo da meno. Anche se il rendimento è un po' differente, avete costruito più le vostre fortune in casa che fuori. Sì, sicuramente. Ma insomma, sicuramente l'organizzazione difensiva, l'abbiamo detto più volte, a calcio punto basket è il vostro punto di forza. Sì, certo. Poi c'è da dire che contro squadre ben organizzate, tener botta fino a tutti i 90 minuti non è facile, però noi come sempre ce la mettiamo tutta e spesso riusciamo a far bene. Cesare, è stata interrotta la serie di 5 risultati utili interni. Insomma, era un po' importante anche una cercare di continuare proprio per il morale, anche per quel discorso che facevi tu qualche minuto fa, anche un discorso di autostima in un campionato che rimane tremendamente difficile e che comunque vede il Sant'Arcangelo ancora dover conquistare il suo obiettivo. Assolutamente, il campionato è lungo, difficile, il mercato sta cambiando un po' le squadre che si assesteranno fra un po'. Credo che oggi Parma abbia venduto evacuo, quindi un pezzo da 90 che si è nato all'Alessandria. Comunque, il Sant'Arcangelo in casa è difficile che sbagli. Ne parlavamo prima delle partite mercoledì sera, anche di giocare 6 e mezzo alla domenica, in questi tempi, mi sembrano tutte cose, veramente anche in questo caso. È anche difficile fare una bella partita, secondo me, in quella condizione lì di campo, di clima, di freddo. Però è Sant'Arcangelo in casa. Almeno domenica si giocherà alle 14.30 a Teramo, è stata anticipata la partita dalle 18.30 alle 14.30, quindi questa è già una buona notizia, sia per chi la giocherà che per chi vorrà andare allo Stato a vederla. Io spero che a Teramo inverta un po' questa rotta, che Sant'Arcangelo se la possa giocare, dal punto di vista del risultato, venendone fuori meglio del solito e ritrovi un po' la strada, soprattutto nelle partite esterne. Ci sarà Oneto, immagino, in campo, perché Sirignano è squalificato. Sicuramente non lo farà. Questi due gol sono frutto anche di un Oneto in panchina, lo diciamo anche a mister Marcolini, perché se Oneto va in panchina poi si prende i gol. Sono in quanto che si stanno giocando tre maglie, in questo momento Paramanti sta facendo bene, quindi sta giocando lui, ma prima l'aveva giocato tanto anche Oneto. È chiaro che la squalifica di Sirignano, immagino, riveda questo trio in campo, insomma Oneto e Paramanti ai lati del centro, adesso non mi viene in mente il direttore centrale, Adorni, i lati di Adorni, però Sirignano per la sua esperienza, per la sua grinta, è un'assenza che pesa, secondo me, nella retroguardia. Peccato perché ieri si sono fatti infilare in maniera abbastanza insolita, perché quel movimento di Guidone, altre volte l'avrebbero letto con un po' più di attenzione, invece Sirignano ha dovuto tagliare per andarlo a chiudere praticamente dietro Adorni, insomma si era infilato in zona centrale. Peccato, l'espulsione penalizza ulteriormente, perché rigore, espulso per un tempo, e poi anche squalificato la partita dopo, il danno è grosso. Invece era doppio di Rozzo, di testa, cosa mi dite? C'è qualche errore difensivo? Evitabile? Non lo so, semplicemente saltato, non era neanche una parabola, un calcio d'angolo da destra, non era neanche una parabola particolarmente tesa, era a rientrare da destra, ha saltato veramente in alto, ma lì ci stava, lì secondo me, il Sant'Arcanzo era proprio sfibrato nel secondo tempo, obiettivamente riuscì a fare poco, 10 contro 11, non ha neanche subito, o meglio, Nardi una paratona l'ha fatta, ma per il resto, la Reggiana non ha cercato ossessivamente il 2-0, e quindi ha tenuto botte di Sant'Arcanzo, però era arrivato al momento in cui non poteva proprio far di più, è stata proprio la resa anche simbolica alla partita. C'è stato il debutto di Defendi, che però è entrato, non era facile in quel momento, poi a un certo punto Sant'Arcanzo si è riempiti di attaccanti, perché prima Defendi, poi Merini, a un certo momento la partita era proprio un po' giocata in maniera un po' scuinternata dal punto di vista tattico, insomma si cercava in qualche modo di venire in a capo e non sono riusciti a produrre molto. Il Neocuisto ha però le caratteristiche dell'attaccante che serviva a questo Sant'Arcanzo, perché serviva un attaccante che avesse comunque anche diciamo quella capacità anche di mettere in moto i compagni, tecnico, era un po' quello che mancava, no? Diciamo un po' di tempo fa. Sì, Sant'Arcanzo fa pochi go con gli attaccanti, deve, purtroppo non ha le possibilità di cercare sul mercato, diciamo, sicurezze non ci sono dal punto di vista dei goli in nessun caso, però insomma deve trovare un modo di essere un pochino più prolifico, ecco, se non con gli attaccanti cercando delle soluzioni con le incursioni di alcuni dei centrocampisti che un po' nelle corde ce l'hanno, sto pensando soprattutto a Valentini che peraltro gioca un po' poco, però anche Danza qualcosa in conclusione intanto ci fa vedere, se non arriva il Sant'Arcanzo deve fare più gol, altrimenti perché poi se va sotto rimettere in piedi la partita fa sempre una gran fatica. Manca ancora qualcosa a questo Sant'Arcanzo del Loriano dal mercato visto che siamo agli sgoccioli di quel livello di organico. No, ovviamente non è neanche tanto una battuta nel senso che dipende di quanto si può disporre, negli anni il Sant'Arcanzo ha sempre fatto benissimo ancora di più rispetto al budget a disposizione. Tenuto conto che il budget comunque sarà quello nel senso che ci ha detto anche il Presidente Brolli non si faranno follie nel mercato di gennaio si aspetterà qualche occasione magari nei minuti finali del mercato. Adesso è arrivato Defendi, è arrivato Florio dobbiamo aspettare qualcos'altro un colpo in chiusura. Può anche essere noi siamo abituati a un Sant'Arcanzo che d'estate nei minuti finali si riprendeva bene non so se vi ricordate sono nelle finestre invernali può darsi che succeda. Il miglior colpo di mercato del Sant'Arcanzo credo forse è della storia del calcio italiano perché insomma è venduto riacquistato venduto riacquistato alla fine guadagnandoci sempre credo insomma fosse davvero l'acqua di briscolo. Da questo punto di vista grande merito al lavoro dei dirigenti gialloblu può darsi che succeda qualcosa ma non che cambi il volto in questo momento della squadra qualcosa è stato preso già piccolissimi aggiustamenti credo non credo che vadano a rompere il contesto della squadra. Secondo me se qualcosa si muove in attacco questo punto uno deve andare non è che possono aggiungere a Merini a Defendi a Cori a Cesaretti un altro attaccante se un attaccante magari quello che pensano possa risolvere di più la situazione di altri arriverà è perché probabilmente qualcuno partirà potrebbe anche chiudersi così anche perché manca un giorno appunto siamo agli sgoccioli si diceva nelle ore finali poi è arrivato un po' in anticipo Defendi rispetto a quanto non avevamo invece immaginato perché è arrivato i primi della scorsa settimana e quindi adesso vedremo se ci sarà qualche movimento in chiusura invece in difesa c'è una bella concorrenza Luca perché di fianco a te a volte davanti a volte invece sei te che giochi gli altri sono in panchina comunque c'è una bella concorrenza no in difesa siamo comunque doppi per ogni per ogni ruolo prima parte di stagione l'ho fatta io fino a Mantova poi un po' l'infortunio un po' scelte tecniche Lorenzo Paramatti non è che ha preso il mio posto comunque sta giocando lui sta giocando bene anche quindi sta meritando la conferma certo no comunque ci può stare avere il cambio diciamo in ogni ruolo perché comunque dare respiro durante la stagione fa sempre bene non è che uno riesce a fare 38 partite in tutto l'anno quindi il cambio durante la stagione ci vuole assolutamente se saranno loro tre a termo in un campo così complicato non so che media età avrà la difesa fra Adorni o Niente Paramatti 94 più o meno quindi insomma sarà una difesa molto giovane sarà una difesa giovane in un campo caldissimo no fra l'altro è valida perché stanno facendo diciamo che voi quattro che avete giocato di più degli altri fin qui hanno fatto tutti molto bene è stato il segreto dei punti del Santacaggio fino adesso è cambiato molto poco Marco Lini come diceva bene Neto, Dorni, Sirignano fino a poco tempo fa erano fissi Nardi naturalmente dalla Bola Carvini e Rossi giocano sempre si è cambiato un po' a destra con Posocco adesso c'è Florio e davanti sostanzialmente quasi sempre Corri Cesaretti adesso che ci sono delle difficoltà serve che i cambi o i nuovi aggiustamenti diano qualcosa perché perché è necessario soprattutto in queste partite come diceva Cesare prima un po' ignoranti un po' dure spigolose è necessario svoltare in questo momento soprattutto di carattere di testa e di far vedere che il Santacangelo si è ancora andiamo a vedere anche quanto è accaduto sugli altri campi perché abbiamo detto di questa sconfitta con rabbia da parte del Santacangelo anche se ci può stare perché contro una big del campionato seppur in situazioni di grave difficoltà dicevamo Venezia Parma è finita 2-2 quindi è dall'inizio del campionato che secondo me la prima non sarà il Venezia ma è ancora il Venezia quindi merito anche a Inzaghi qui è andato sotto i due gol c'è stato il rosso al Parma l'ha un po' recuperata così secondo me il Parma viene fuori forte poteva agganciarli non l'ha fatto ma questi due se la giocano fino alla fine io credo Lumezzana e Feralpi Salò è uno scontro in chiave playoff ha vinto il Feralpi Salò a me ha stupito lo 0-0 di Pordenone e Mantua e veramente vorrei fare i complimenti a Gad e al Forlì perché hanno rimesso in piedi un campionato che sembrava perso è vero e non con i proclami non con facendo chissà che cosa ma con il lavoro con la serietà di un ragazzo di un allenatore in gamba hanno rimesso in piedi un campionato spero per loro che si salvino sarà difficile come per tanti altri però tanto di cappello La maceratese ha preso 4 punti perché ne è stato ridato uno per quanto riguarda la penalizzazione e ha vinto sul campo dell'Ancone il derby marchigiano Sì gli altri risultati insomma è più o meno purtroppo alla fine c'è quello 0-2 che fa male però insomma dovranno rimboccarsi le maniche e ripartire e ripeto ancora dimenticare la polemica dimenticare l'alibi perché è vero che qualcosa ha girato storto però è anche vero che il mondo del calcio è sempre andato così quelli che sono davanti gli arbitri sono sempre un pochino più accondiscendenti andiamo a vedere anche la classifica perché vogliamo anche dare un occhiato un po' a com'è la situazione nuova sia del Sant'Arcangelo che anche di tutte le altre squadre vediamo il comando sempre il Venezia insomma il Parma aveva l'opportunità di effettuare in caso di vittoria l'aggancio alla vetta segue però in seconda posizione e ha rivoluzionato l'organico però non è l'unica squadra che può ambire ancora al primato perché insomma vediamo Pordenone e Padova che sono lì a 42 quindi un punto solo sotto il Parma insomma poi c'è la Reggiana a 40 io direi che per il discorso prima della classe forse ci possiamo fermare qua possiamo mettere ancora il Bassano di D'Angelo io do Parma e Venezia però è chiaro che adesso nei punti ci stanno anche le altre obiettivamente attenzione anche al Pordenone che però è una bella squadra perché secondo me è una squadra che magari arriva ma non so se prima Luca secondo te le tue favorite io metto le prime quattro perché comunque sono quelle che hanno dimostrato di avere bel gioco di avere nomi di avere una squadra forte e quindi penso che le prime quattro possano ambire al primo posto scendiamo allora di qualche gradino con la nostra classifica per andare a vedere invece la situazione del Sant'Arcangelo che è quota 27 la maceratese non so se sia già aggiornata la classifica perché secondo me potrebbe avere un punto in più perché credo abbia adesso meno due di penalizzazione se ben ricordo però vediamo insomma andremo a verificare nella settimana non cambia molto perché bisogna guardare come riferimento quella zona gialla che inizia a diventare una zona diciamo non dico rossa ma rosa sì come ricordava prima Cesare più 5 adesso sulla zona play out sulla zona calda e guarda quanto è vicino il Forlì il Forlì stasera è fuori dalla zona play out per dare la dimensione proprio se pensi a quello che è stato fin qui il campionato pensare che ha solo 4 punti in meno del Sant'Arcangelo è veramente stata una rimonta importante e in questo girone fare questi filotti queste rimonte di questo tipo non è facile veramente sono stati bravi certo adesso la classifica non è come dire non è mai stata straordinariamente però in questa fase insomma adesso bisogna guardarsi un pochino dietro tenuto conto che 5 punti sono mica pochi ecco intanto niente sono andato a vedere anche la conferma la maceratese è già stato ridato il punto quindi aveva meno 4 addirittura quindi meno 3 adesso quindi praticamente è a quota 27 insomma quindi insomma la classifica veritire già aggiornata anche la nostra insomma sicuramente Luca ci sarà ancora da soffrire a partire da domenica a Teramo abbiamo detto si giocherà alle 14.30 è uno scontro importante appunto da non fallire proprio perché il Teramo lo vediamo è lì al penultimo posto a quota 19 quindi sarebbe bene tenerlo almeno alla stessa distanza se non magari possibilmente incrementare ulteriormente il divario no? sì sicuramente col genere di ritorno abbiamo comunque partite difficili perché comunque Parma Reggiano adesso Teramo poi Bassano Ancona e dobbiamo affrontare al meglio cercare di tenere più distanti possibili le zone basse della classifica e quindi andare a Teramo e cercare di portare i tre punti a casa sarebbe fantastico e soprattutto fondamentale partita tosta è molto tosta molto tosta ambiente squadra che arriva da una sconfitta contro il Modena mi sembra che è una di quelle che sta facendo filotto sicuramente si va sulla stessa linea della lotta del pochi scherzi pochi pochi ornamenti al gioco ma più sostanza è una di quelle partite in cui si vuole tanta tantissima sostanza non perdere un contrasto sempre molto attenti concentrati e non regalare neanche un episodio che poi è quello che ha fatto il Sant'Arcangelo a prescindere dalla decisione arbitrale con la Regione e si quindi dimenticare in fretta quanto accaduto Cesare voltare pagina e ripartire come ha fatto fino a questo momento sempre Sant'Arcangelo e greggiamente saprà Marco Lini come muoversi e allora noi siamo in chiusura per quanto riguarda anche quest'ultima parte di Calcio.basket vi ricordo gli appuntamenti per quanto riguarda il nostro fine settimana ovvero la domenica a partire dalle 14 il nostro appuntamento con 92 minuto il nostro Simone Massaccesi in studio su Icaro TV e Radio Icaro per tutti gli aggiornamenti in temporale dalla Serie A alla terza categoria e i collegamenti con i nostri campi in particolare seguiamo anche la partita del Rimini sul campo del Cervia che inizierà alle 14.30 e che sarà trasmessa in diretta televisiva sul canale invece 211 della digitale terrestre Iurimini TV ma anche in streaming su Icaro.tv e sulla pagina Facebook Icaro Sport sempre sul 211 mercoledì sera potrete vedere invece la partita del Rimini in casa con l'Argentana la prima di ritorno con calcio d'inizio alle 20.30 anche in quel caso ovviamente vale lo stesso discorso per quanto concerne lo streaming su Icaro.tv e la pagina Facebook su Icaro Sport e poi l'appuntamento con Calcio.basket per lunedì sera a partire dalle 19.45 ma voglio anche ricordare gli altri appuntamenti domenicali oltre a 92 su Icaro.tv alle 18.30 Calcio Junior TV con ospite il Gatteo Calcio e poi all'evento il nostro overtime della domenica Luca Neto grazie per aver partecipato prima di lasciarti andare voglio chiederti un po' di raccontarci velocemente proprio la tua carriera perché tu sei classe 96 sei nato a Lavagna sì sono nato a Lavagna abito in un paese vicino a Chiavari ho fatto tutte le trafee dai giovanili dai pulcini fino alla primavera alla Virtue Sentella l'anno scorso sono andato in prestito nella Lavagnese in Serie D che è la squadra della tua città che è la squadra sì della mia città natale 37 presenze e tre gol quindi ogni tanto qualche gol lo fai? qualche cosa di testa soprattutto? no un tiro fuori area e due dentro l'area piccola perché giocavo quinto l'anno scorso giocavo quinto di destra l'anno scorso quindi spesso mi trovavo in armi di rigore e quest'anno sempre presto dall'Intella sono qui a Sant'Arcangelo fino al termine della stagione contento della stagione fino a questo momento dello spazio trovato? contentissimo sono sono davvero contento sia personalmente che della squadra l'ambiente insomma è un ambiente molto tranquillo sì niente da dire secondo me per un giovane l'ambiente è perfetto questo in bocca al lupo allora per questa sfida davvero calda sul capo del termo che vi attende domenica ricordiamo ancora le 14.30 è stato anticipato l'orario rispetto alle 18.30 iniziali grazie ancora Luca Oneto in bocca al lupo grazie Loreno Zannoni grazie buonasera a tutti sai che questa è la tua casa quindi io tutti i lunedì se vuoi venire così come l'amico Gianmarco Porcellini siete sempre ben accetti di fianco a Cesare Trevisani che ringrazio buonasera a tutti buonasera a tutti Cesare? mi voglio aggiungere al dolore per la scomparsa di questo ragazzo che mi ha colpito veramente tanto insomma un ragazzo di 45 anni così in pochi giorni mi hanno raccontato io non lo conoscevo bene insomma di vista l'avevo ovviamente visto allo stadio bravi ragazzi della curva hanno fatto veramente tanto è bello ed è giusto pensare a lui che non c'è più facciamo tutti chi può anche qualcosa per stare vicino alla sua famiglia in questo momento perché veramente una perdita così è veramente molto pesante quindi il pensiero per questa sera è per lui è vero ma ho visto insomma i ragazzi soprattutto i ragazzi della curva ma anche i suoi colleghi insomma diciamo che Ciccio ha seminato bene perché tutti lo ricordano come una persona quali era in realtà sempre sorridente un ragazzo buono la cosa che ho sentito più è il ragazzo buono e che dice dice davvero tanto dice davvero tanto perché è una cosa diciamo è piccola semplice ma una cosa grande importante questo è vero purtroppo lui non c'è più e invece ci sono delle persone che questo ragazzo buono che lo vedevano tutti i giorni non lo vedranno più e saranno molto in difficoltà e saranno molto tristi per lungo tempo quindi continuare a stare vicino dopo questo momento di così grande dolore ai suoi cari è una cosa da fare noi mandiamo loro un abbraccio ovviamente grazie Cesare Trevisani grazie a tutti voi per averci seguito come detto lunedì tornerà anche Geni Bronzetti e Calcio.Basket in diretta su Icaro TV Radio Icora dalle 19.45 buon proseguimento prima della sigla lo spot degli amici di Sant'Arcangelo di Fisiocinetica con la stagione fredda iniziano i dolori per problemi di artrosi traumi o incidenti sportivi a Fisiocinetica studiamo il programma riabilitativo su misura per te con la nostra esperienza e professionalità potrai alleviare il dolore e ritrovare il benessere centro di riabilitazione Fisiocinetica il primo consulto è gratuito ci trovi a Sant'Arcangelo via Ugo Braschi 12 Gelsosport Igea Marina Domus Medica Nova Feltria e su internet Fisiocinetica.it Fisiocinetica Il programma è stato offerto da a l'international è stato offerto da altruzione a l'international